Musica Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog Allora, vi chiedo scusa per questi giorni in cui non ci sono stata Mi ha attaccato l'affreddore, Sabina Ok, che giorno è oggi? Mi lo dici tu? Ma, non smetti Sto parlando con Pia adesso Che giorno è oggi Pia? Oggi? Sì, è giovedì ed è il tuo? È il tuo? Mollettina Ma cosa dici? Non è la mollettina È il tuo compleanno oggi? E tu è la molletta? Quella è la molletta, sì Ok Cosa facciamo oggi? Tante cose, adesso ci andiamo a cambiare E poi volevo fare delle cose Che è uscito il bando per i vici a scuola Quindi volevo cercare la speed per entrare perché non me la ricordo E così almeno guardo bene Perché l'anno scorso, due anni fa, non serviva l'ise Bastava che l'avevi fatto e poi loro guardavano direttamente quanto era Invece quest'anno sembrerebbe che Cioè, non so se dire che ce l'hai Se intendono che tu ce l'abbia fisicamente Oppure se intendono solo che tu l'abbia fatto Perciò volevo entrare per capire E così se fosse la prossima settimana poi lo andiamo a ritirare Perché l'ho già fatto ma non l'ho ancora ritirata E boh Quindi adesso andiamo giù No, niente bubo adesso Allora, aggiornamento Ho so riuscita a fare le domande Perché l'ise non serviva averlo in mano Ma bastava averlo fatto Quindi so riuscita a fare la domanda del bonus Per i libri di testo E niente, quindi adesso preparo da mangiare Che tra poco arriva Manuel Poi oggi pomeriggio diamo una sistemata Perché, oltre a fare ovviamente la torta Perché stasera vengono anche la mamma Luisa e Luca Che mangiamo Aspettate che la sveglia Che mangiamo la pizza E se riusciamo prendiamo anche i pasticcini Quindi, niente Adesso io mi do una mossa Perché veramente, sennò il tempo scorre E io non faccio niente Ci aggiorniamo e dopo Vi farò vedere quello che faccio Che torta preparo, eccetera, eccetera C'è arrivato il cibo Adesso la Luisa tira fuori tutto Che è qua, la Luisa Posso darti una manuzia? No Può darsi Questi sono per i due bambini più piccioli C'è tanta di quella roba Che non sappiamo neanche bene Quanta ce n'è in realtà Da è il cibo Quella suon Brighe Questa ciotaca Questa Halle Questa 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.